beh questa merita di farla vedere così e anche per così che così si riesce a capire che tipo di lavorazione c'è nel battimento nel corpo dietro questa barra di alluminio che insomma fra un po da asse portante di tutto lo strumento non credo poi anche per dargli massa non credo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.